I dettami stilistici che segue casa Mazza nell'ultimo periodo sono tutti riassunti nel nuovo design della nuova Mazza 2 e nella tecnologia. Schiekshf, la nuova utilitaria giapponese regala quindi linee fluide e personali, sempre più sinuose. Ma scopriamola nei dettagli. Nuova Mosda 2, design e misure. Oggi la Mosda 2 si rinnova, soprattutto nel frontale che si contraddistingue con moderne luci full LED e con un cofano piuttosto allungato. Due punti questi particolari regalano alla vettura un look sportivo che la distingue dalle concorrenti dello stesso segmento. L'intera vettura è costruita sullo Schiekshf Cassis, cioè il pianale di ultima generazione con valori di rigidità al top della categoria. Due punti molto leggero, solo 975 kg per la top di gamma, è ottimo per aumentare le prestazioni contenendo i consumi, senza rinunciare ad un po' di brio nella guida. È più lunga di 14 cm della sua antenata e ne misura in totale 406. Lo spazio per 5 persone è un po' ridotto, ma in 4 si sta comodi. Il bagagliaio è un po' sacrificato, sia nell'accesso che nella capienza, di soli 280 litri nella configurazione standard. La piccola di casa Mosda è una vettura grintosa e moderna anche all'interno, il cruscotto è il tachimetro digitale e si inserisce bene nella plancia che offre di serie il display multi-information per gestire tutto l'infotainment. Inoltre è presente la radio con 4 altoparlanti, le prese USB e AUX ed i comandi al volante. Per la connessione ad internet dovete optare sul sistema MZD Connect con interfaccia Touch Shren 7 pollici a colori, top di gamma. Gli interni sono piacevoli, così come lo sono i materiali di pregio usati per la costruzione e la cura delle rifiniture, ecco qui il suo vero tocco da vettura premium, coadiuvato dall'ampia offerta multimediale. Lo spazio nei posti davanti è abbondante e alla guida si sta comodi, anche grazie alla possibilità concreta di regolare la posizione. Del volante per godersi la guida, molto agile sia in città sia su strade impervie. Le sospensioni infatti sono solide e il cambio è preciso e morbido. Lo sterzo è preciso e la vettura su strada sa divertire. I motori della Mosda 2. La gamma dei propulsori disponibili vede in totale tre motorizzazioni, tutte 1,5 e 6 euro, due sono i benzina, 75 e 90 cavalli, e una è quella turbodiesel con 105 cavalli. La casa di Hiroshima ha introdotto la tecnologia schiattive per ridurre le emissioni di Co2 e ciò ha contribuito anche a migliorare le prestazioni e i consumi. Questi ultimi sono sui 18 km per litro per la Mosda alimentata a gasolio. I benzina consumano poco ma sono poco vigorosi, mentre il diesel è un po' ruvido. Tutti i propulsori vanno quindi sfruttati a fondo, ma regalano prestazioni ottimali. Nessuna versione sportiva per questa Mosda 2, e attenzione al retrotreno sensibile. Una pecca? Dalla scheda tecnica si notano alcune soluzioni un po' economiche, come ad esempio i tamburi posteriori e il punte torrente, sempre al posteriore. Inoltre i sei rapporti sono solo sulla versione alimentata a benzina da 115 cavalli, così come il sistema di recupero di energia in frenata e l'op. Allestimenti e prezzi Gli allestimenti della nuova Mosda 2 sono tre, Essence, Base, Evolve e il top di gamma Exceed, ognuno personalizzabile con tanti optional aggiuntivi, compreso il cambio automatico con convertitore di coppia, rapido e che piace agli sportivi, ma che non agevola la guida rilassata. Sulla versione top potete avere il pacchetto iExvesense Technology che offre la chiave intelligente, ma non solo, troverete anche gli abbaglianti automatici e un valido sistema di monitoraggio dell'angolo cieco. Per avere la versione base dovrete spendere almeno 13.900 euro.